Dal 20 al 22 novembre ci sarà l'assemblea congressuale, un'assemblea che arriva in un momento particolarmente importante per l'associazione dei comuni italiani perché ci sarà ovviamente il rinnovo della sua governance con il nuovo presidente dopo il periodo De Caro. Quindi un momento importante dal punto di vista associativo ma un momento importante anche per fare il punto sui tanti problemi ovviamente che investono gli enti locali del nostro paese in un momento particolare che è quello in cui si sta formando la legge di bilancio in Parlamento. Avremo quindi modo di parlare di tante tematiche in particolare quella delle tensioni finanziarie che ovviamente investono i nostri comuni prima fra tutti quelli diciamo dalla parte corrente dei bilanci che come tutti sappiamo è particolarmente tirata. Quindi un momento per fare un po' la sintesi di quello che sta accadendo per accogliere proposte e anche per fare relazioni tra noi tra noi sindaci per condividere tante problematiche alle quali andiamo incontro quotidianamente.